Il giornale della Lombardia, un piper, è precipitato durante l'air show a Montichiari in provincia di Brescia. Il pilota è morto, il copilota è rimasto ferito. È stata annullata l'esibizione delle frecce tricolori che si sarebbe dovuta tenere mezz'ora dopo. Morire così davanti a migliaia di persone. È accaduto nel pomeriggio all'aeroporto di Montichiari, dove è rincorso la rievocazione storica per il centenario del primo circuito aereo internazionale. Un piccolo aereo è accaduto all'improvviso, provocando la morte dal pilota e il ferimento dal copilota. I due iscritti al nostro aeroclub, Macarana Marzio e Castellani Paolo.